Tutta la famiglia Novi Orizzonti è in festa e ringrazia il Papa per il dono di questi dieci anni del suo pontificato. Papa Francesco è stato, è un faro in questo tempo così difficile, ci ha sostenuto con il suo amore paterno, ci ha aiutato a comprendere che in questa tempesta che stiamo vivendo siamo tutti sulla stessa barca, possiamo non affondare solo se rimiamo insieme. Queste le sue parole. Il Papa ha scelto un nome unico nella storia della Chiesa che direi ha delineato fin dagli inizi un po' le coordinate fondamentali del suo pontificato. Non dimenticarci dei poveri, la cura del creato come casa comune, fondamentale per tutti noi la sua enciclica laudato sì, l'impegno per una fratellanza universale al di là delle differenze geografiche e culturali, l'enciclica fratelli tutti, un altro tesoro prezioso, l'impegno a vivere il Vangelo alla lettera, sull'esempio del poverello di Assisi, e ancora l'attenzione alle periferie esistenziali, come le ha chiamato, ed essere una Chiesa in uscita, come ci ricorda nella splendida lettera apostolica Evangeli Gaudium. Ecco, credo che possiamo sintetizzare questi dieci anni pontificato con dieci parole chiave. Misericordia, gioia, poveri, creato, fratellanza, Vangelo, periferie, comunione, preghiera, solidarietà. Dieci parole che ci portano ad un rinnovamento nella Chiesa. Mi vengono in mente anche pensando alle dieci risposte che Papa Francesco ci ha regalato nel nuovo libro Cerca il tuo orizzonte, in cui ci richiama appunto a non lasciarci denominare dalla globalizzazione dell'indifferenza, perché siamo dinnanzi a una catastrofe epocale. Vogliamo far tesoro di quanto ci ha regalato proprio per fare un'inversione di rotta dal cammino verso l'autodistruzione ad edificare insieme la civiltà dell'amore.